Musica Cari telespettatori siamo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino è tornato a trovarci il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, buonasera sindaco Buonasera a tutti Vi ricordo come sempre i numeri per intervenire in diretta potete telefonare allo 0721 86 14 33 potete inviarci anche un messaggio con whatsapp al 338 49 68 250 Sindaco prima di trattare argomenti prettamente inerenti al comune di Pesaro vorrei chiederle un argomento su queste elezioni per il presidente nazionale del PD Bonaccini risulta in testa, qual è secondo lei il punto di forza? proprio l'idea di puntare su un partito formato da amministratori? questo non è un congresso normale, è un congresso di ricostruzione io penso che bisogna ricostruire dove hai le basi più solide Bonaccini ha queste caratteristiche da una parte di chi è in grado di cambiare le cose perché dobbiamo ricostruire con un grande cambiamento del gruppo dirigente dall'altra di chi ha anche dimostrato di saper guidare saper guidare un partito nella sua regione saper guidare una regione importante come l'Emilia Romagna e quindi credo che abbia le giuste caratteristiche per aprire questa nuova fase e in più certo ha scommesso anche sui sindaci e gli amministratori locali che nel momento in cui la destra ha la larga maggioranza del Parlamento ha 16 regioni su 20 in tutta Italia contemporaneamente il 70% dei comuni ha sindaci progressisti e riformisti quindi abbiamo una grande energia locale che può dare davvero una grande mano in questa fase di rigenerazione Gellischlein che cosa pensa? Penso che sia molto utile per allargare ma che non abbia le caratteristiche giuste in questo momento per guidare questa è la mia considerazione quindi è importantissimo il suo contributo la battaglia che sta facendo anche le persone nuove che è riuscita a coinvolgere che magari non erano nel PD questo è sicuramente un contributo molto importante, prezioso però noi dobbiamo scegliere il 26 chi guida non è che scegliamo e quindi credo che nella scelta tra i due insomma Bonacini abbia molte più carte da giocare l'importante è che domenica prossima tante persone vadano a votare perché domenica si riparte dopo mesi e mesi un congresso lunghissimo eccessivamente lungo, confusionario adesso finalmente si riparte quindi più persone andranno a votare il 26 e più voti prenderà secondo me Stefano e maggiore sarà la forza nella nostra ripartenza A proposito di ripartenza e anche di riforme lei è tornato a parlare del sistema sanitario anche nei giorni scorsi parlando anche di un peggioramento quindi mobilità passiva, situazione del pronto soccorso ci sono delle novità importanti per i cittadini? Io ho fatto una fotografia c'è una nuova giunta regionale da due anni e mezzo sono a metà legislatura e dopo due anni e mezzo bisogna cominciare a fare un bilancio se chiediamo a qualsiasi cittadino di Fano, di Pesaro, della provincia, della regione se in questi due anni e mezzo la sanità è migliorata o peggiorata io credo che 9 su 10 ci rispondano è peggiorata anzi vi invito a fare un'inchiesta che vedo che ogni tanto ho fatto penso che sia oggettivamente peggiorata è peggiorata il pronto soccorso è peggiorata ulteriormente la mobilità passiva verso l'Emilia Romagna quindi questa è la fotografia quindi io non sono assolutamente soddisfatto di come va la sanità nel nostro territorio e dopo due anni e mezzo che si governa non si può dare sempre la colpa a chi c'era prima bisogna prendersi le proprie responsabilità e soprattutto se le cose sono peggiorate quindi c'è molto da fare io credo che il nuovo ospedale di Pesaro debba andare avanti velocemente quindi saremo incalzanti ma soprattutto è importante capire che cosa si farà nel nuovo ospedale di Pesaro nel Santa Croce di Fano negli altri ad Urbino perché è stata tolta l'azienda ospedaliera c'è un'unica azienda provinciale con tutti gli ospedali dentro quindi non c'è più l'ASUR regionale l'azienda ospedaliera è una riorganizzazione che mi preoccupa molto il fatto che non ci sia più l'azienda ospedaliera che ha contribuito ad integrare i due ospedali Pesaro e Fano è un elemento di grande debolezza e grande incertezza e quindi sia io che Massimo Seri che Gambini vogliamo sapere che volete fare di questa sanità che cosa ci mettete che specializzazioni ci saranno avremo la forza di attrarre i medici migliori avremo i medici per il pronto soccorso queste sono le domande che facciamo alla regione l'assessore regionale è sparito sostanzialmente alla sanità io in genere parlo direttamente con il presidente Acquaroli con il quale ho un rapporto istituzionale di grande correttezza e quindi come dire tornerò a sollecitarlo perché la preoccupazione sul tema sanitario è davvero alta Abbiamo una persona che vuole parlare con lei Buonasera, chi c'è in linea? Buonasera sindaco Innanzitutto premetto che io ho apprezzato quello che ha fatto il sindaco per la nostra città Parlo di Pesaro in queste due legislature tuttavia mi pare che in quest'ultima fase della sua amministrazione ci sia una carenza per quanto riguarda la manutenzione della città e mi riferisco tanto alle strade che non c'è bisogno di sottolinearle perché basta camminare per Pesaro mi riferisco anche alla manutenzione del verde e qui chiamo in caso a Aspes che è una controllata del comune a titolo di esempio non rimpiazza per esempio le ruole vuote e sono centinaia, centinaia, centinaia e si potrebbero fare i famosi boschi urbani proprio da quante sono e queste aiuole vuote diventano poi ricettacolo per cani e per quello che sappiamo faccio un titolo esempio mi sono preso la briga di guardare in Viale Trieste quante sono sono circa 60 Viale Trieste che è praticamente la principale strada turistica di Pesaro poi anche sul lato della pulizia delle strade da parte di marchi multiservizi io se non voglio dare suggerimenti ma vedere per esempio gli operatori con quei soffioni che hanno che puliscono al centro ma ai lati delle strade rimane invece accatastata tutta l'immondizia minuta diventa una cosa che non guardabile ecco volevo dire questo qui tutto questo non dà un'immagine di quella città che vogliamo che sia in funzione di quella che è la città della cultura del 2024 era questo che volevo sottolineare grazie allora non condivido il giudizio in toto però prendo lo spunto perché sono d'accordo su alcune cose allora intanto il 2024 poi ne parleremo immagino è una grande opportunità ma come dire tutto viene visto sotto la lente di ingrandimento e quindi ho detto a tutta la mia squadra dagli assessori all'Aspes alla Marche Multiservizi che bisogna fare ancora di più ancora meglio sia nella gestione del verde sia nella pulizia della città Pesaro è una città pulita ma la voglio ancora più pulita sia nella gestione del verde che è gestito bene ma può essere gestito ancora meglio e quest'anno nel 2023 le risorse del comune per i lavori pubblici le ho messe tutte sulle manutenzioni straordinarie quindi asfalti marciapiedi manutenzione delle ciclabili e ovviamente manutenzione delle scuole anche perché poi ne parleremo abbiamo una marea di investimenti da fare di risorse che abbiamo preso da fuori per cui non ha senso mettere risorse del comune su un'opera importante ma avviene mettere le risorse sulle manutenzioni quindi vedrà che pur non condividendo il giudizio di massima però vedrà che il 2023 molte delle cose che oggi sottolinea miglioreranno perché questa è la sferzata che abbiamo dato dobbiamo diciamo essere pronti la capitale della cultura inizia secondo me ufficialmente giovedì col concerto dei Maneschi ma diciamo la parte vera sarà con la stagione e quindi diciamo con la stagione già 2023 estiva primavera estate e per tutto il 2024 siamo già capitale della cultura quindi dobbiamo arrivare ai prossimi mesi già pronti per dare la migliore immagine possibile della nostra città come ha detto lei poi dopo scenderemo anche nei particolari un altro argomento però che preoccupa i cittadini riguarda il biolaboratorio di Torraccia hanno già anticipato altre manifestazioni che insomma in questo momento si stanno organizzando a nulla sono servite pare le rassicurazioni da parte del direttore dell'istituto Caputo d'altra parte il comune è stato trasparente anche perché aveva inserito nella delibera sulla vendita la corrispondenza con l'istituto stesso ecco lei sindaco l'istituto l'istituto profilattico è un istituto che fa riferimento alla regione Marche la regione Umbria e al ministero della salute che tutti i giorni garantisce la qualità delle carni che vanno sul nostro piatto e controlla l'andamento dei virus delle malattie in tutti gli allevamenti di queste due regioni più fa un lavoro sugli animali di piccola taglia quindi come dire fa un lavoro importante di controllo di prevenzione e via dicendo che apra uno stabilimento tra Marche e Umbria uno dei suoi punti più importanti a Pesaro per noi è un vanto quindi voglio dire potrebbero aprirlo in qualsiasi parte delle Marche dell'Umbria hanno scelto in questo caso di farlo a Pesaro perché è vicino al casello autostradale e quindi facilmente raggiungibile in un'area pubblica del comune quindi noi siamo contenti il direttore dell'istituto gli assessori che hanno portato avanti la delibera hanno spiegato tutto non c'è nessun pericolo per nessuno e quindi poi è chiaro che se chi è rimasto a protestare pensa che lo Stato abbia inventato il Covid che il Covid sia stato costruito in laboratorio apposta dagli Stati diffuso da Big Pharma eccetera sono persone che non convincerai mai perché non si fidano delle istituzioni non si fidano del Ministero della Salute pensano che il Covid sia un'invenzione o una cosa creata d'arte dallo Stato quindi non c'è confronto con chi pensa questo con i cittadini che erano legittimamente spaventati di una novità insomma abbiamo discusso dialogato eccetera e portato tutte le garanzie possibili non tanto noi ma l'Istituto Zooprofilattico che ringrazio perché hanno fatto un incontro di una chiarezza estrema cominciamo a leggere un po' di messaggi strada per andare al cimitero di Santa Maria delle Febrecce è messa male Fabrecce bisogna darle una sistemata è la strada per andare appunto al cimitero ci sono avete definito il piano di asfaltature no si sta si sta definendo l'assessore Posti che sta facendo un ottimo lavoro sta definendo il piano abbiamo aumentato qualche giorno fa ulteriori risorse per le asfaltature nella prima variazione di bilancio che abbiamo fatto quindi insomma spero che anche questa strada rientri nel piano le chiedono anche tempi e modalità del restyling della stazione ferroviaria di Pesaro che a mio modesto parere ci scrive un telespettatore sarà una vetrina immediata per chi raggiungerà in treno la nostra città capitale della cultura questo è uno degli investimenti che siamo riusciti ad ottenere sono 10 milioni di investimenti che Ferrovie dello Stato investe nella ristrutturazione della stazione ne ha davvero bisogno e anche nella riqualificazione del piazzale antistante e dei sottopassi che vanno verso il parco Miralfiore quindi nella parte retrostante investimento molto importante partenza questo ci hanno detto entro fine marzo di quest'anno ci vorrà però un anno e mezzo di lavori quindi ho chiesto di almeno un anno e mezzo di lavori quindi ho chiesto di capire se si riescono a fare questi interventi a stralci in modo tale sapendo che l'anno della capitale della cultura comunque sarà un cantiere a tutti i cantieri che avremo in città abbiamo chiesto o imporremo di utilizzare la grafica della capitale della cultura perché saranno molti i cantieri che avremo nel 2024 però se già una parte della stazione si riuscisse ad inaugurare o comunque a rendere fruibile nel suo complesso perché è finita sarebbe una bella cosa di certo la stazione non si può fermare quindi la programmazione dei lavori sarà comunque una programmazione a stralci che non comprometterà l'utilizzo della stazione stessa però è molto importante perché erano davvero tanti anni che speravo di riuscire ad ottenere questi investimenti e finalmente ci siamo colgo l'occasione per ringraziare il nostro operatore Stefano Barnesi per le immagini buonasera sono un ragazzo di Pesaro conosco il sindaco e vorrei chiedere visto che dovevano terminare i lavori ad agosto 2022 del vecchio palazzetto quando andranno ancora per le lunghe inoltre si è detto che inizieranno i lavori dopo vari anni per il cavalcaferro via Miralfiore non è meglio terminare i lavori dove sono già iniziati al posto di lasciare tutte le incompiute le incompiute non ci sono a Pesaro le incompiute sono quei lavori che rimangono fermi per tanto tempo che non si riescono a far ripartire in questo caso sono cantieri in corso alcuni cantieri sono più semplici faccio l'esempio abbiamo deciso di rifare la piazza del popolo in pochissimo tempo tra la stagione estiva e il Natale io sinceramente ho temuto il peggio ho temuto che noi ci ritrovassimo durante il Natale con la piazza non fruibile invece ha vinto la gara una ditta del nostro territorio fra l'altro molto seria hanno finito prima del tempo e noi siamo riusciti a fare il Natale come tutte le altre città e poi ci sono lavori invece che fanno dannare il vecchio palazzetto dello sport è quello che ci ha fatto più dannare di tutti lì siamo stati anche sfortunati e diciamo è partito con un progetto fatto per come dire troppo velocemente ma obbligati a farlo velocemente perché si dovevano sbloccare i fondi del patto di stabilità e quel progetto col quale siamo andati in gara ha avuto diversi partecipanti ma aveva oggettivamente delle lacune e quindi siamo dovuti intervenire per innanzitutto per sanare quelle lacune mettendoci diversi risorse in più poi c'è stato il terremoto nei Monti Sibillini delle Marche del centro Italia sono cambiate le normative sismiche e quindi abbiamo voluto fare un adeguamento sismico che prima non era previsto un ulteriore adeguamento sismico poi è arrivato l'aumento del costo delle materie prime e ovviamente capite che quello vale per tutti i cantieri in più la ditta che ha vinto il lavoro ci ha fatto dannare e quindi adesso per il completamento del lavoro è stata fatta una nuova gara hanno vinto tre aziende del territorio questo ci come dire ci fa ben sperare perché è gente che vuole far bella figura in genere come si tiene alla città al territorio alla provincia quindi speriamo che non abbiano problemi e che riescano a finire i lavori e noi dobbiamo finire i lavori per la capitale della cultura quindi questi sono i tempi del cantiere e quindi insomma questo ci ha fatto davvero dannare quando lo inaugureremo faremo una festa enorme perché è davvero un cantiere importante perché quel palazzetto diventa un auditorium da duemila posti in particolar modo per la musica ma anche per i convegni per il turismo per lo sport vicino al centro vicino al mare quindi strategico per tutta la strategia degli eventi che stiamo portando in città il vecchio cavalcaferrovia abbiamo preso il cavalcaferrovia abbiamo preso un finanziamento abbiamo visto un bando del ministero degli interni per 3 milioni di euro partono i lavori il problema del cavalcaferrovia è che sotto passano i treni e quindi la difficoltà nel trovare la ditta nell'organizzare i lavori è legata al fatto che si deve lavorare poche ore al giorno si lavorerà 2-3 ore di notte al giorno perché quando c'è il transito dei treni non si può lavorare quindi è come dire un problema logistico non da poco e quindi però anche su questo si parte quindi speriamo davvero di finirlo il prima possibile però a Pesaro non si fanno incompiute non si sono mai fatte e non si faranno neanche adesso le incompiute sono quelle opere che rimangono a metà e nessuno finisce ci possono essere dei ritardi come purtroppo capita in tanti cantieri di lavori pubblici in tante parti d'Italia tutti dal comune appunto buonasera sono un gestore di un bar di Pesaro vorrei sapere come si comporterà il comune riguardo alle concessioni del suolo pubblico date lo scorso anno per il covid oddio penso che ci sia anche quest'anno la deroga ottenuta la deroga io sono dell'idea che anche prima quando non c'era questa deroga che per me è bello vedere le persone mangiare bere all'aperto mi piace molto che si vivono di più anche la città a me piace molto ovviamente mi va a fare una cosa ordinata quindi abbiamo un regolamento quando si è nel centro storico abbiamo ovviamente delle indicazioni della sovrintendenza quindi mi va a fare cose di qualità però l'indicazione che ho dato in questi anni anche prima del covid era permettere 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 chi vuole e c'è la possibilità logistica di allargare la propria attività in un marciapiede in una piazza eccetera lo faccia e poi come avete visto abbiamo anche permesso di chiudere le strade le piazze o in maniera definitiva o temporaneamente il giovedì via Cavour il mercoledì via Passeri via Passeri in verità l'abbiamo chiusa parzialmente al traffico quasi un bel pezzo piuttosto che altri luoghi della città e quest'anno lo faremo anche a Baia Flaminia perché Baia Flaminia anche se non è nel centro storico ha tante attività quindi stanno ragionando con i miei assessori di alcune chiusure temporanee o legate ad alcune giornate eccetera perché dove c'hai attività del food questa cosa funziona e rende le attività ancora più attrattive ancora più competitive prima di andare avanti con i messaggi c'è un'altra signora che vorrebbe parlare con lei buonasera buonasera il sindaco è qua che l'ascolta prego va bene allora signor sindaco sono una signora di Fano mi parla nell'ospedale l'ospedale va bene ma gli ospedali già ci sono ci sono però non sono coltivati bene ne mancano i medici mancano gli infermieri manca tutto nell'ospedale allora bisogna curare questi ospedali che ci sono non pensare di aprire altri ospedali mia nipote è da stamattina che è il pronto soccorso laggiù che mancano i medici ancora è stasera da stamattina alle 8 e stasera ancora non l'hanno visitata questo manca a Fano si affano si appesano chiedi una visita stai un anno per aspettare le faccio una domanda signora parliamo degli ospedali ci vogliono altre cose qui in Italia che mancano scusi signora le faccio una domanda negli ultimi due anni e mezzo negli ultimi due anni diciamo secondo lei la situazione della sanità quella che conosci meglio è diventata pessima no è l'analisi che facevo io prima perché come giustamente dice lei io dottore sono un po' sorda parlo forte per questo no no ma non si preoccupi non c'è nessun problema abbiamo capito no prima avevo fatto un'analisi parzialmente simile alla sua cioè la sensazione che ho io è che negli ultimi due anni la situazione sia peggiorata e lei me lo sta confermando con la sua testimonianza e la sua valutazione sono d'accordo con lei che c'è una questione di muri cioè di edifici ma c'è una questione di contenuto e come ho ribadito anch'io ha ragione mancano i medici mancano gli infermieri e nella nostra terra che è una terra dove molti già si vanno a curare fuori provincia la situazione secondo me è peggiore che altrove è anche vero che la giunta attuale no lo dico signora non perché non voglio prendermi delle responsabilità ma perché magari non tutti sanno che la sanità è una competenza della regione quando comandavano quelli della mia parte politica gli altri dicevano che faceva tutto schifo che sarebbero arrivati loro avrebbero cambiato tutto poi due anni e mezzo fa hanno vinto gli altri stanno governando da due anni e mezzo e la situazione è peggiorata come sta confermando anche lei quindi l'analisi è comune adesso bisogna che ci sia da fare per migliorarla davvero devo dire però che in questi ultimi anni sono stati effettuati molti più corsi di formazione per il resto poi se rimaniamo a disposizione di eventuali repliche da parte della regione Marche poi avrete esponenti della regione Marche che vi diranno il contrario questa è la mia analisi io penso siccome faccio il sindaco e ho l'orecchio a terra quando governava il centro-sinistra io sentivo che c'erano problemi nella sanità e quindi non ho mai detto che la sanità andava benissimo ho sempre detto che c'erano dei problemi che bisognava migliorarli che c'era tanta mobilità passiva e dicevo la mia su cosa doveva essere fatto quindi non è che quando governavano gli altri dicevo che andava tutto bene adesso che arrivano loro vado tutto male no io semplicemente dico già avevamo dei problemi prima oggettivi oggettivi in questi due anni e mezzo quei problemi oggettivi sono ulteriormente peggiorati secondo me parecchio e credo che i cittadini siano d'accordo con me su questo tema ancora un po' di risposta con lei sindaco il parcheggio di Vismara è un Quellabrodo a quando rifacimento? intanto a Vismara stiamo facendo la ciclabile sono passato stamattina a fare un sopralluogo quindi sono partiti i lavori della ciclabile a Vismara abbiamo fatto parecchie cose abbiamo sistemato i marciapiedi abbiamo rifatto il centro sportivo adesso abbiamo dovuto spostare la scuola elementare al circolo di Vismara al centro sociale di Vismara perché rifacciamo la scuola nuova elementare Santa Maria delle Fabrecce facendo il parcheggio e migliorando la viabilità che è un problema storico di quella zona quindi nei prossimi anni avremo una scuola molto bella nuova e spero che questo parcheggio come le altre cose che sono state sollecitate sia nel piano delle manutenzioni lo verificherò subito domani mattina Porto di Pesaro grande incompiuta rimasto a metà quando cambierà la destinazione d'uso della capitaneria da commerciale a di portistico per allestire il porto con banchine galeggianti posti, barca e quant'altro questa è una semplificazione che fanno tutti ma che è sbagliata perché Pesaro è un porto commerciale con una vocazione turistica grazie al fatto che siamo porto commerciale abbiamo ottenuto in questi anni dallo Stato diversi investimenti sulla banchina sull'illuminazione alcuni dragaggi che non avremmo ottenuti l'allungamento del molo che non avremmo ottenuto qual è l'equilibrio che abbiamo trovato negli ultimi anni l'abbiamo chiamato Porto Bello c'è un porto commerciale che però ha le caratteristiche anche di un porto turistico maggiormente fruibile siamo stati fortunati perché dopo il fallimento del cantiere il cantiere navale è stato acquisito dal cantiere Rossini e quindi fanno la ristrutturazione di yacht hanno fatto quell'investimento bellissimo in questo capannone che sembra un museo in verità e quindi arrivano tante persone e portano lo yacht a ristrutturare quindi è diventato un luogo anche attrattivo adesso abbiamo ottenuto altri 11 milioni di euro dai vari governi dal governo presente ma diciamo dallo Stato italiano per il dragaggio la cassa di colmata perché Pesaro ha un problema di pescaggio molto basso e quindi ha bisogno di dragaggio come fra l'altro tutti i porti avremo un incontro a breve l'abbiamo avuto la settimana scorsa ne avremo un altro a breve con l'autorità di sistema portuale che ha questi 11 milioni per capire come vogliono portare avanti questo progetto nella modalità e nei tempi nel frattempo abbiamo chiesto e ottenuto la possibilità di utilizzare la darsena commerciale per l'imbarcazione da di porto Sindaco ci dobbiamo fermare per qualche istante poi torniamo a leggere tutti i vostri messaggi a tra poco Siamo di nuovo in diretta con il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci vado a leggere i prossimi messaggi le chiedono se ha novità in merito al casello di Pesaro Sud di Santa Veneranda o di Fano Nord al finire oppure a Nobilar a metà strada c'è urgente bisogno di un casello per togliere il traffico dalla statale tra Pesaro e Fano Allora intanto anche altra vicenda tormentata perché con Società Autostrade in questi anni è stata davvero una vicenda tormentatissima perché diciamo prima all'inizio non è che avevano una gran fretta poi è cascato il ponte caduto il ponte di Genova la grande tragedia si è bloccato tutto perché lo Stato per due anni ha messo in discussione la convenzione con Società Autostrade quindi Società Autostrade ha bloccato tutti gli investimenti in giro per l'Italia che non aveva ancora fatto poi per fortuna si è risolto questo contenzioso e siamo ripartiti è in corso il lavoro sull'interquartiere di Muraglia il cantiere in corso abbiamo dovuto anche cambiare la viabilità per diversi mesi e poi partiranno quest'anno i cantieri si apriranno i cantieri di tutte le altre opere quindi la bretella dalla Monte Labattese fino all'attuale Casello il raddoppio dell'Urbinate e la bretella di Santa Veneranda cioè quindi la circonvallazione di Santa Veneranda quindi mentre si fa a Muraglia speriamo che si concluda il prima possibile si aprono questi altri tre cantieri nel 2024 dovremo avere l'apertura del cantiere del Casello di Santa Veneranda famoso casellino quindi questo è il cronoprogramma che la società autostrade andrò Stato almeno quanti anni ci potrebbero impiegare per realizzarlo ma per noi sono opere enormi perché parliamo complessivamente di 90 milioni di opere per la società autostrade in verità non sono opere così importanti il problema è sempre la burocrazia trovare le aziende che lo realizzano tutte le queste di Muraglia hanno fatto una gara europea ha vinto un'azienda che lo sta realizzando invece tutte le altre opere l'accordo che abbiamo che verranno realizzate dalla società di scopo di società autostrade questo gli eviterà di fare la gara quindi si evita molto si risparmia un anno rispetto alle procedure ordinarie quindi io adesso sono in grado di dire quando partiranno i cantieri così come avevo detto nel 22 è partito il cantiere della strada di Muraglia nel 23 partono tutte le altre opere nel 24 parte il casello ovviamente non voglio far previsioni sulla conclusione però il fatto che questi lavori sono partiti o stiano per partire insomma mi fa tirare un sospiro di sollievo perché sono opere sulle quali abbiamo rischiato davvero tanto sentiamo chi c'è al telefono buonasera buonasera io stiamo da San Lorenzo in campo alcuni anni fa avevo sollevato lo stesso problema circa tre anni fa forse riguarda il calcere minorile veramente una situazione anche molto brutta nel centro di Pesaro poi prima parlavate proprio in silico parlava anche del completamento di quello che è un vecchio palazzo dello sport i primi ruoli risalgo a oltre 30 anni fa la sentiamo un po' male guardi la faccio richiamare dalla regia così ci riferiscono e poi le rispondiamo comunque l'ex carcere il problema principale del carcere minorile è che negli ultimi anni è stato vincolato da parte della sovrintendenza se le devo dire la mia opinione in maniera esagerata perché è un bene è vero che ha più di 100 anni presumibilmente ma non è un bene architettonico che abbia per me poi io non sono un esperto per carità una valenza di che tipo è stato tutto vincolato compreso il muro quindi quelle cose che lei vede decadere non possono essere abbattute o meglio devono essere ricostruite nella stessa maniera questo ha creato molti problemi perché quel bene che poteva essere venduto non ha avuto al momento nessun acquirente anche se negli ultimi mesi si è mosso qualcosa speriamo che ci possa essere qualche sorpresa qualche novità positiva il bene è in comproprietà metà del comune metà della provincia quindi il problema ce l'abbiamo entrambi gli enti abbiamo provato a partecipare a un bando sulle scuole come nuove scuole non poteva partecipare perché non si poteva abbattere e il bando finanziava solo le nuove scuole quindi abbattimento ricostruzione abbiamo provato a partecipare come polo dell'infanzia è un edificio che non è stato considerato giusto per un polo per l'infanzia quindi è uno dei pochi bandi che non siamo riusciti a vincere adesso l'abbiamo rimesso sul mercato sperando abbiamo già qualche interesse che ci siano dei potenziali investitori siamo in questa situazione è una situazione complessa perché volendo facciamo un'ipotesi se io voglio decidere di abbatterlo trovo i soldi che servono per abbatterlo anche questa era un'ipotesi che ho tenuto in testa non lo posso fare perché il bene è vincolato non lo posso abbattere ricostruire per una funzione pubblica non lo posso abbattere ricostruire per una funzione privata quindi o lo ristrutturo per una funzione pubblica o lo ristrutturo per una funzione privata queste sono le due possibilità che abbiamo in corso quindi ho chiesto ai miei uffici di rimetterlo in vendita e al tempo stesso sto cercando altre risorse pubbliche magari nei prossimi bandi regionali per provare a riqualificarlo per un interesse pubblico che possa essere l'università piuttosto che un'esigenza culturale un'esigenza sociale andiamo avanti con i messaggi salve sindaco a che punto è il progetto di arretramento della ferrovia è solo una fantasia le chiedono? no no è realtà? non è una fantasia forse molti capisco perché è una cosa talmente grande che come dire sembra un sogno è un sogno che si sta realizzando perché l'anno scorso in legge di bilancio il Parlamento ha approvato 5-6 miliardi per il tratto per la modernizzazione del tratto Bologna Lecce di questi 5-6 miliardi un miliardo e 8 è per l'arretramento della ferrovia di Pesaro e Fano inizialmente era solo Pesaro poi abbiamo fatto una battaglia la regione addirittura ha chiesto e spero che si riesca di fare di prolungare fino a Senigallia al momento la ferrovia dello Stato ha i soldi per il primo nodo il primo nodo è Pesaro e Fano un miliardo e 8 1.800 milioni 1.200 milioni per il nodo di Pesaro 600 milioni per allungare fino all'uscita di Fano adesso il tema è trovare nelle prossime leggi di bilancio era difficile trovarlo in questa legge di bilancio qui che è stata una legge di bilancio fatta dal governo in pochi mesi dobbiamo trovare le risorse per Mondolfo Marotta Senigallia almeno questo è il tratto ne ho parlato con il Presidente Acquarola anche qualche settimana fa poi c'è un'esigenza ovviamente assulta la regione nel frattempo continua a progettare e bisogna trovare le risorse aggiuntive per le altre città che come noi hanno chiesto un arretramento è stato un lavoro lungo abbiamo convinto Ferrovie sul fatto che l'arretramento della stazione di Pesaro e Fano diciamo lungo l'asse dell'autostrada sposta di pochi chilometri la stazione quindi non fa perdere passeggeri e al tempo stesso ci consentirà di caricare le merci che oggi non carichiamo oggi dalla stazione di Fano alla stazione di Pesaro non carichiamo un container e quindi ha una valenza ambientale ha una valenza produttiva una valenza di competitività perché noi potremmo a quel punto mettere sulle rotaie container verso il porto d'Ancona verso il porto di Ravenno verso il porto del sud Italia e al tempo stesso liberiamo diciamo un tratto lungo che sta dentro le due città e che sta sul lungomare che diventerà questa l'idea una nuova green line una green line che cos'è? è un percorso dove possono passare mezzi pubblici elettrici ma un percorso attraversabile e al tempo stesso un percorso dove si va a piedi in bicicletta col monopattino dove ci sarà tanto verde attraversabili a piedi in bicicletta quindi le macchine continueranno a passare sotto ma i pedoni e le biciclette potranno passare sopra quindi provate ad immaginare che cosa vuol dire questo per le due città e provate ad immaginarvi il lungomare tra Pesore e Fano con l'ardizio dietro senza la ferrovia diventa secondo me il lungomare uno dei lungomari più belli dell'Adriatico sicuramente è il lungomare più bello delle marche quindi fatto salvo Sirolo che non è un lungomare che è diciamo un parco naturale fantastico però come lungomare provate ad immaginarlo diventa una cosa fenomenale quindi ci vorrà tempo quindi dobbiamo sapere che non è una cosa che si fa in due anni io credo che ci vorranno 6, 7, 8 anni perché tutto questo si veda per fortuna non sono fondi del PNRR ma sono fondi del bilancio dello Stato e quindi non hanno una scadenza però insomma il fatto che non hanno una scadenza vuol dire che dovremo continuamente incalzare ferrovie dello Stato ad andare avanti velocemente al tempo stesso incalzare il Parlamento il Governo eccetera a trovare le risorse in più per le altre città penso nel nostro territorio Mondolfo e Marotta il sindaco di Mondolfo si è battuto molto per avere lo stesso risultato quindi se pensiamo alla nostra provincia prossima tappa Mondolfo e Marotta Sindaco ho decine di messaggi per lei due persone che vorrebbero parlare con lei direttamente passiamo alla prossima telefonata ce l'abbiamo pronto buonasera pronto buonasera prego volevo chiedere al sindaco praticamente se diciamo in futuro imminente ci sarà qualche struttura a livello di appartamenti abitazioni per facilitare almeno quelli che vengono da giù tipo come me che sono venuto qua due anni e ho fatto difficoltà a trovare una casa di affitto diciamo che la maggior parte non lo so danno in affitto per il periodo stagionale non ci danno opportunità di poter stare di dove lei io sono sempre di Pesaro mia famiglia ok guardi allora questo secondo me nella città di Pesaro non so a Fano ma sicuramente nella città di Pesaro in questa fase è il momento è il problema sociale forse più grosso che abbiamo ovviamente c'è il tema della povertà generale ma la casa è diciamo i due elementi che ti portano sotto la soglia di povertà sono se non lavori quindi il reddito e la casa se non hai la casa di proprietà e devi andare in affitto già hai un problema in partenza enorme che cosa sta succedendo che già a Pesaro era abbastanza difficile trovare le case in affitto paradossalmente l'aumento del turismo che abbiamo avuto e il covid che ti fa chiedere sempre più spazi grandi rispetto al passato ha aperto un mercato turistico nelle abitazioni maggiore rispetto al passato e quindi che cosa sta succedendo che già le case popolari non sono sufficienti le case in affitto ad affitti non sono sufficienti sta succedendo che molti proprietari hanno pensato stanno pensando di affittare la loro abitazione turisticamente perché magari dicono ovviamente non riusciamo ad affittarla per 12 mesi all'anno ma i mesi che l'affittiamo guadagniamo più che darla ad una famiglia che ne ha bisogno ma anche che economicamente diciamo può garantire l'affitto perché ci guadagniamo di più e al tempo stesso non abbiamo il problema di cambiare l'inquilino questo è a mio parere nei problemi generali che il paese ha e Pesaro e dentro ovviamente l'Italia questo a Pesaro è il problema sociale diciamo aggiuntivo maggiore che abbiamo stiamo cercando di capire come fare io penso che dobbiamo innanzitutto dare una mano a chi non sa la fa pagare l'affitto l'abbiamo fatto negli anni scorsi e dobbiamo continuare a farlo però c'è un problema capire come muoversi dentro questa dinamica ad esempio quando io dico che a Pesaro servirebbero più hotel e di maggiore qualità fra l'altro due hotel che hanno ristrutturato gli anni scorsi sono stati bravi e coraggiosi sono passati a quattro stelle grazie al coraggio che hanno avuto più hotel avremo e come dire più saremo competitivi turisticamente perché ne abbiamo pochi e meno avremo effetti collaterali come questo che sta accadendo non so se ho spiegato il meccanismo in atto ma secondo me il cittadino che ha telefonato rientra esattamente in questa categoria magari ho difficoltà a garantire il pagamento o magari anche garanzia a garantire il pagamento magari con il fiatone alla fine del mese ma fa fatica a trovare la casa perché preferiscono darla ai turisti questo è un problema che mi viene rilevato continuamente e ripeto a mio parere è il problema sul quale dobbiamo mettere maggiormente la testa dal punto di vista sociale Sindaco le chiedono sia per Casa Rossini che per Rocca Costanza Casa Rossini sono lavori da poco quindi non abbiamo problemi Rocca Costanza invece è un grande investimento anche qui mi pare di almeno una decina di milioni di euro complessivamente grande investimento una grande operazione fatta con il De Magno e il Ministero della Cultura perché verrà riqualificata completamente l'interno della Rocca e il fossato e anche il cortile interno indiviso in fasi quindi con una nuova uscita di sicurezza in modo tale che il fossato possa essere fruibile ancora di più rispetto a quello che è stato in questi anni che il cortile interno possa essere fruibile con porte di sicurezza anche per eventi l'interno una parte si andrà all'archivio di Stato e una parte invece abbiamo ottenuto il finanziamento per il Museo Dario Fo e Fran Carame è uno dei tre musei nazionali che siamo riusciti a far finanziare il primo è stato il Museo Rossini che abbiamo aperto nel 2019 il Museo Nazionale Rossini il secondo finanziamento che abbiamo ottenuto è per il Museo Nazionale della Motocicletta che verrà realizzato all'ex tribunale in via San Francesco e il terzo finanziamento ottenuto è per il Museo Nazionale Dario Fo e Fran Carame siamo molto fortunati per questo perché la famiglia e la fondazione ha scelto Pesaro tra le varie realtà italiane dove fare il museo di due grandi artisti e uomini diciamo anche di grandi battaglie civili del nostro del nostro paese e quindi insomma anche quello sarà un progetto a step che nei prossimi anni renderà la Rocca ancora più bella ancora più attrattiva abbiamo pochi minuti a disposizione riusciamo a fare un'altra telefonata e leggere ancora qualche messaggio buonasera che abbiamo in linea pronto? la sentiamo prego buonasera buonasera signor sindaco sono un ex insegnante Pesaro in particolare il quartiere di Pantano e mi interessa una cosa che non è così grandiosa ma secondo me molto importante perché costerebbe anche poco fa rispettare la legge che riguarda l'esposizione delle bandiere nazionale e europea negli edifici pubblici in particolare nelle scuole girando per la città vedo che questa non viene rispettata in particolare in questo via la Mamora dove c'è l'ex scuola Alberto Manzi e dispiace vedere a fianco del bel nome Alberto Manzi che è stato non solo un maestro ma anche un protagonista della resistenza e della liberazione vedere delle aste con degli stracci colorati questo è carissimo e ho chiamato proprio la trasmissione per cui si dice un bel verde bianco e rosso se passa lì via la Mamora vede che sono degli stracci appesi di fianco c'è la nuova scuola Brancati Grande Peni in cui non ci sono proprio le bandiere nazionali quindi è grave che il ragrettino che passa per andare a scuola veda a fianco del nome Alberto Manzi che sono anche importanti tentolare degli stracci o verdi bianco e rossi o azzurri quindi gradirei che anche questa cosa forse basta sono lo chiesto in comune mi aspetterei che non ci vuole molto per smontare un'asta ad una bandiera sulle bandiere domani mattina c'è la giunta tiro le orecchie a chi segue queste cose perché ha ragione dobbiamo il senso dello Stato si vede anche da queste cose quindi il municipio le scuole devono avere la bandiera italiana e la bandiera europea quella è la nostra identità e quello è ovviamente sono le nostre bandiere che vanno esposte quindi questo ok la seconda la Manzi è chiusa chiusa da tempo perché è stata definita inagibile dal punto di vista statico abbiamo ragionato a lungo perché abbiamo fatto la scuola di Viala Marmore la scuola più sostenibile di Europa la Brancati è diventato un modello non solo a Pesaro ma anche in giro per l'Italia e dovevamo decidere se fare ristrutturare l'Olivieri o fare una nuova scuola abbiamo deciso di fare la nuova Manzi questa è la decisione che abbiamo preso adesso stiamo cercando le soluzioni per trovare le risorse necessarie e quindi abbiamo deciso che a fianco della Brancati faremo la nuova Manzi con le stesse caratteristiche quindi scuola media scuola elementare oggi la scuola elementare è spostata sull'Olivieri in via Confoniieri e diventerà un piccolo un piccolo campus scolastico mentre invece è già finanziata la nuova palestra che verrà fatta di fronte alla Brancati quindi diventerà un polo educativo e anche sportivo molto importante per quel quartiere posso chiedere una cosa io? una domanda se è possibile far vedere alla fine il sito peserochecambia.it ci proviamo perché in questo momento abbiamo un regista che riesce a seguire noi ci proviamo però abbiamo un'altra telefonata per lei le chiedo sempre di rispondere molto velocemente buonasera prego e pronto? sì ci siamo prego sono Daniela da Pesaro quartiere di Pantano io volevo chiedere come si può pensare di aprire altri cantieri che faranno poi rimaneranno aperti durante 2024 quando saremo la città della cultura quando ancora abbiamo parecchi cantieri aperti dove non si riescono a mantenere i tempi previsti e neanche i costi cioè ne vuole aprire almeno altri 4 mi chiedo come secondo lei potrà portare a termine tutti questi progetti il San Domenico il Cavalco Ferrovia che è indecente ed è assolutamente urgente da sistemare poi mi sembra che voglia fare la ciclabile di attratti e attualmente abbiamo alcune cose molto importanti a Pesaro per il turismo che sono praticamente chiuse il teatro Rossini è chiuso la Rocca Costanza dentro non c'è niente però signora la trasmissione un po' bisogna che l'ascolta se vuole fare le domande perché tre quarti delle cose che ha chiesto ho già risposto quindi rispondo alle altre cose che ha detto allora non è facile fare tanti cantieri contemporaneamente però dobbiamo farlo anche perché come lei giustamente rimarcava alcuni lavori si sono allungati e quindi non è che possiamo ritardare quelli che possiamo iniziare quindi dovremo essere bravi nella gestione dei cantieri avremo molte impalcature molti lavori in corso quindi questi impatteranno sulla vita della città però daranno anche tanto sviluppo daranno tanto lavoro e quindi dobbiamo cercare di organizzare le cose le cose al meglio sul teatro Rossini c'è stato il terremoto non a caso abbiamo chiesto lo stato d'emergenza perché ce lo siamo dimenticati ma noi abbiamo avuto un terremoto che ha impaurito tanto i pesaresi i fanesi diciamo tutti coloro che vivono sulla costa che ha fatto dei danni ha fatto dei danni in un paio di condomini in alcune case e ha fatto dei danni in molti edifici pubblici quello maggiormente danneggiato è un'ala del teatro Rossini sulla quale già stavamo intervenendo che è ulteriormente scesa e quindi adesso i lavori che dobbiamo fare sono molto più importanti e ci vorrà qualche mese in più quindi dobbiamo finire i lavori per maggio e invece finiremo i lavori per settembre ottobre questo è l'obiettivo che ci siamo dati dopodiché a volte è colpa è colpa del comune a volte è colpa delle ditte a volte è colpa della burocrazia ma al terremoto non ci possiamo far niente diciamo del sito sindaco questo è molto importante perché invito tutti a visitarlo quello che si trova qui non sono i progetti questi sono le cose finanziate se andiamo sul salvadanaio se clicchiamo sul salvadanaio la quarta icona sulla sinistra in verticale ecco questi sono le risorse che siamo riusciti nel comune di Pesaro a portare a portare a casa 1674 milioni di euro al momento non è aggiornato secondo me siamo già sui 1700 1750 se guardate i colori 82 non vedo sono un po' ciecato lavori finanziati lavori finanziati 10 quelli in corso lavori in corso 55 lavori finiti aiutatemi dalla regia completati quindi andando in quella cartina in base ai colori voi vedrete i 55 lavori completati i 10 lavori in corso e gli 82 finanziati il che vuol dire che noi abbiamo ancora 72 cantieri da far partire 1670 milioni 1700 milioni sono investimenti mai visti nella nostra terra con un grande lavoro anche di tutta la macchina operativa insomma sì sì certo il sindaco fa la sua parte ma poi ci sono gli assessori sono i dirigenti tecnici in un momento in cui abbiamo pochi tecnici i dipendenti sono calati e quindi tutti stanno dando il meglio di sé poi capisco anch'io io immagino io adesso sto entrando nella dinamica dell'eredità perché si immagini con tutte queste risorse ottenute il primo che si arrabbia che non le vede realizzate sono io però mi devo anche rendere conto devo fare anche un bagno di realtà che insomma una parte delle cose le ho viste una parte le vedrò da qui a un anno e mezzo è una parte e le vedremo quando non sarò più sindaco ma insomma l'importante è che la città ne possa usufruire nei prossimi anni e l'importante è continuare a prendere più opportunità possibile per noi e per la nostra terra allora un telespettatore le chiede caro sindaco che cosa farà da grande ma prima devo assolutamente fare vedere due foto che ci ha inviato oggi pomeriggio l'artista fanese Sergio Carboni che le dice caro Matteo sono nato in un periodo in cui tra fanesi e pesaresi esisteva un agonismo in qualsiasi campo ma da parecchio tempo questa rivalità credo che non esista più ti devo fare i più sentiti complimenti per essere un bravo e volenteroso sindaco sei sempre stato presente sempre partecipe anche alle nostre iniziative 20 Carboni e mi hai premiato e vediamo la foto anni fa durante l'iniziativa Api Farfalle a Lunano quello che ti chiedo è di ricordare lo scrittore Fabio Tombari nei festeggiamenti di Pesaro Capitale della Cultura però sappiamo che tutti i comuni sono protagonisti sicuramente lo farei intanto voglio ringraziare Carboni bella la foto però mi dà l'idea di quanti capelli ho perso in questi anni e già lì ne avevo persi un po' ma adesso diciamo però è tanti anni fa quello era avevo iniziato a fare il Presidente della Provincia nel 2009 quello sarà stato 2011 cosa leggendo 2011 poi è arrivato il Nevone nel 2012 quello mi ha dato la prima botta e poi dopo il resto però sì sicuramente Fabio Tombari ma la cosa bella della Capitale della Cultura è che ogni settimana un comune della provincia sarà Capitale della Cultura le settimane sono 52 i comuni sono 50 la prima e l'ultima probabilmente serviranno per l'inaugurazione e per la chiusura e quindi tutti i comuni saranno per una settimana Capitale Italiana della Cultura e quindi in quella settimana le eccellenze di quel comune verranno valorizzate non mi ricordo se partiremo da Urbino finiremo con Fano o viceversa o partiamo con Fano e finiamo con Urbino però diciamo Fano e Urbino sono i terminali dell'anno l'inizio e la fine e in mezzo ci saranno tutti gli altri comuni della provincia quindi faremo davvero un lavoro straordinario un grande lavoro da fare abbiamo 30 secondi Sindaco che cosa farà da grande quando finirà il suo mandato intanto adesso c'è molto da fare manca un anno e 4 mesi alla fine del mandato quindi c'è da pedalare forte dare il meglio di me e di noi per tutta la squadra e poi vorrei lasciare una città ben governata un'alleanza ampia come sto costruendo e anche una selezione delle candidature che ci consenta di vincere vincere bene senza grandi divisioni questo è quello che dovrò fare quindi non solo gestire ma anche creare i presupposti affinché diciamo una coalizione democratica progressista riformista possa vincere anche le prossime elezioni elezioni comunali ma guarda la politica nazionale ma io sto facendo politica nazionale da diversi anni in questi anni l'ho fatta da Sindaco vedremo vedremo in politica ormai non si riesce a programmare tanto cambia tutto molto velocemente io sono già molto orgoglioso di aver fatto 15 adesso 14 anni quasi 14 anni a giugno saranno 14 anni l'amministratore locale quando avrò finito saranno 15 aver dato tanta energia tanta passione per la mia terra la mia provincia prima poi la mia città la cosa più bella che mi poteva capitare e che può capitare è chi ha la passione per la politica quindi si può anche finire qui oppure se ci saranno altre opportunità il partito al quale appartengo la coalizione i cittadini penseranno che sarò utile in qualche altro ruolo lo valuteremo grazie per essere stato con noi Sindaco un ringraziamento anche a Cristiana Guerra e Riccardo Sora e il regia speriamo di rieverla nei nostri studi al più presto grazie a voi grazie anche ai nostri telespettatori l'appuntamento con l'informazione per domattina alle 7 con la rassegna stampa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti